Ravenna 2016, fare conti con l'ambiente. Siamo insieme a Umberto Torelli del Corriere della Sera e parliamo della sicurezza e dei rischi che ci sono su internet. Sì, in questa sessione prima di tutto spaventeremo la gente in modo giusto per dire esattamente quali possono essere opportunità ma soprattutto i rischi della rete, rischi che adesso derivano da questo web 3.0, l'internet degli oggetti, gli oggetti che ormai ci pervadono migliaia nelle case, sulla macchina, in ospedale, per strada e proprio dagli oggetti poi bisogna preoccuparsi perché da lì arriveranno i nuovi malware e le nuove insidie del web.